Sabato mattina, incontrata a Ciccobriglio, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento, la polizia della squadra mobile di Agrigento, con il commissariato di Canicattì e i militari della Guardia di Finanza, hanno bloccato e interrotto una corsa clandestina di cavalli, prendendo in consegna i due animali coinvolti. Sono state fermate circa 30 persone di Agrigento, Campobello di Licata, Canicattì e Palma di Montechiaro. Sarebbero i presunti organizzatori dell'evento, i fantini e gli scommettitori che sono stati portati alla caserma Anghelone, dove la polizia e la procura della Repubblica di Agrigento hanno analizzato ogni singola posizione. Il blitz è scattato in seguito all'attività investigativa della polizia di Canicattì. Secondo le prime ricostruzioni, l'attività illecita avrebbe consentito scommesse per diverse migliaia di euro. Lo stesso scenario, con simile dinamica, si è verificato nel novembre del 2020.